Franco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB. Analizziamo un po' il presente e il futuro dell'ILVA, anche perché ci sono certe sigle sindacali che dopo lunghi decenni di silenzio ora forse vogliono rifarsi una verginità sindacale. Il presente è catastrofico, il futuro non esiste, questa è la definizione giusta rispetto all'ILVA di Taranto. Siamo in una condizione dove oramai siamo agli sgoccioli, rispetto alle altre sigle sindacali io penso che le persone poi valuteranno su quello che è successo in questi anni, sulla storia del sindacato in genere che negli ultimi 30 anni ha mollato completamente. Probabilmente ci troviamo anche grazie a questo atteggiamento in questa condizione oggi in Italia. Voi optate per la nazionalizzazione? Sì, noi come unica soluzione per poter salvare capre e capoli diciamo che la nazionalizzazione quindi l'impegno diretto del governo, poi chiarisco una volta per tutte perché si fa un sacco di demagogia. Però anche importanti personaggi che dovrebbero saperlo meglio del sottoscritto che un umile operaio probabilmente non sanno qual è la differenza fra nazionalizzare uno stabilimento e commissariarlo. Nazionalizzazione può voler dire tante cose, vuol dire che lo Stato ha un interesse diretto nella questione, nella faccenda, quindi detta ai ritmi e di nazionalizzazione ce ne sono di diversi tipi. Quindi noi optiamo per quello perché rispetto a quello che è successo all'Eva di Taranto l'unico soggetto che può garantire un futuro sia per l'occupazione che per la questione ambientale è il pubblico, quindi lo Stato. Grazie.